Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine usuale e ben conosciuto della mia libreria. Allora, cari signori, quando si parla di seconda guerra mondiale si parla essenzialmente di quella che è considerata forse la prima vera guerra moderna della storia. Una guerra che è stata fondata essenzialmente su fattori come la mobilità delle truppe e la meccanizzazione e come simbolo della modernità, come simbolo della meccanizzazione, come simbolo della razionalizzazione della meccanizzazione delle forze armate, sicuramente bisogna prendere un mezzo, un mezzo che è indubbiamente uno dei simboli più famosi della seconda guerra mondiale, uno dei mezzi più iconici della seconda guerra mondiale, il mezzo che più di ogni altro ha simboleggiato il potere industriale americano, il mezzo che più di ogni altro ha simboleggiato la modernità della concezione americana di meccanizzazione e mobilità dell'esercito. Perché parliamo di mezzo simbolo? Parliamo di un mezzo che è stato definito fondamentale per la vittoria alleata durante la seconda guerra mondiale. E di che cosa parliamo? Beh, signori, parliamo di questa qua. Eccola, la Jeep Willys, il mezzo meccanico che ha veramente rivoluzionato più di ogni altro il modo di fare la guerra. Eh sì, non tanto, a mio modesto giudizio, non tanto il carro armato, non tanto l'aereo, non tanto chissà quale arma, no. Quello che ha veramente rivoluzionato la guerra è stata questa scatoletta ruotata qua, la Jeep Willys. Allora, la fonte che userò, la scheda tecnica che userò, proviene dalla seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, il terzo volume, ok? Ripeto, come sempre, opera, ahimè, datata, ma che quando si tratta di fornire dati tecnici è assolutamente tuttora valida. Allora, come ho spiegato, l'esercito americano durante la seconda guerra mondiale era molto probabilmente l'esercito meno ortodosso tra tutti quelli dei contendenti della seconda guerra mondiale. Era un esercito poco ortodosso almeno secondo i canoni, per la verità un po' ristretti, con i quali noi europei, senza nessuna esclusione, eravamo abituati a giudicare un'organizzazione militare. Le divise dall'aspetto trasandato, la grande varietà spesso scambiata per eterogeneità dei mezzi a disposizione, quando invece sappiamo bene che c'era una grande standardizzazione tra i mezzi meccanici a disposizione degli americani. Gli stessi pistoni, gli stessi, per esempio, la stessa pedaliera dei freni, gli stessi organi meccanici e avevano un ampio grado di intercambiabilità. Ok? Allora, dicevo, e soprattutto un singolare senso del cameratismo che spesso sembrava travalicare i vincoli imposti dal grado militare, erano cose che creavano attorno a questo esercito giovane, se confrontato ai nostri, soprattutto, insomma, siamo sinceri, soprattutto se confrontato con lo sclerotico e sclerotizzato esercito italiano, insomma, ce n'era ben donde, dicevo, questo esercito suscitò un forte interesse. Questo interesse, però, era spesso seguito da uno sgomento che colpiva tutti coloro, ed erano la maggioranza, che finalmente si rendevano conto delle possibilità del potenziale industriale di quel paese che in un primo momento ci eravamo illusi di piegare con una serie di vittorie iniziali. Questo esercito, dunque, nella sua marcia attraverso l'Europa, fece conoscere alle popolazioni con le quali veniva a contatto abitudini e mode di origine americana, che in piccola parte si portava dietro. Vabbè, la gomma da masticare, la Coca-Cola, il Boogie Boogie, insomma. Ma non tutti i prodotti americani avevano un fine così bassamente consumistico. E qui veniamo a parlare della Jeep Willys, e del suo ruolo durante la Seconda Guerra Mondiale. Allora, l'industria meccanica, per esempio, rivolgendosi verso le necessità militari, aveva prodotto in gran numero questo piccolo veicolo per tutti gli usi, ovvero general purpose. E sarebbe diventato ben presto il simbolo universalmente noto di questo esercito, moderno e interamente meccanizzato. Dalla pronuncia delle iniziali GP, l'automezzo venne subito familiarmente chiamato Jeep, che era anche il nome di un personaggio dei fumetti di brazzo di ferro, Eugene the Jeep. Allora, si trattava di una vettura adatta alla marcia su qualsiasi tipo di terreno, con tutte le ruote motrici, dal peso di poco superiore alla tonnellata. La forma squadrata, una volta che il parabrezza era stato abbattuto in avanti, le dava l'aspetto di una simpatica scatoletta su ruote. Il motore era un quattro cilindri in linea a benzina da due litri e due, che forniva una potenza massima di 54 cavalli, ed era in grado di far superare pendenze del 60%, sopra il 100%, signori, sopra i 45 gradi, insomma, signori. Insomma, non c'è mica da ridere. Le marce erano 5, 4 più la retromarcia, più due ridotte. Priva di corazzature, la Jeep fu intelligentemente sfruttata utilizzando le sue doti principali, agilità, velocità, autonomia. E divenne così, di volta in volta, veicolo da ricognizione, da trasporto, ambulanza, sede volante di comando e in versioni particolarmente adattate, mezzo contro aereo o contro carro, dando ottima prova di sé su tutti i fronti, da quello desertico a quello russo, perché moltissime Jeep, decine di migliaia di Jeep, furono fornite ai sovietici. Fino al Pacifico, adottata da tutti i rami dell'esercito americano e successivamente anche da tutti gli eserciti alleati, la Jeep venne costruita principalmente dalla Willis Overland Motors Company a partire dal dicembre 1941 e al termine della guerra era stata prodotta inoltre 640.000 esemplari. Mentre noi facevamo fatica a produrre sui 10.000 camion di svariati tipi diversi. Insomma, e c'è da dire comunque che la Jeep non fu solo un mezzo bellico, ma la sua carriera, la sua vita continuò anche nel dopoguerra per decenni. dal 1945 decine di migliaia di Jeep Willis furono convertite a usi civili, addirittura alcune furono utilizzate come trattori, mandavano le pompe per l'irrigazione. Io ricordo che mi raccontava, mio nonno paterno mi raccontava che dopo la guerra un meccanico del mio paese prese una Jeep che era stata abbandonata dagli americani e con un po' di buona volontà e una cinghia la trasformò in un generatore elettrico. Per dire come riusciva a essere sfruttata e utilizzata la Jeep. La Jeep era un mezzo indubbiamente estremamente versatile, estremamente affidabile, semplice ma soprattutto efficace. Perché siccome gli americani avevano capito fin da subito che la guerra moderna sarebbe stata essenzialmente logistica e mobilità, occorreva meccanizzare in maniera capillare l'esercito. E quindi come fare? Mettersi a costruire una macchina, un'auto semplice, razionale, economica che potesse essere fabbricata presto e bene in gran numero e senza troppi problemi. La Jeep Willys, ripeto, notate bene una cosa, allora vi dico solo questo, la Jeep Willys era talmente tanto razionale che una volta ripiegata la capottina, abbattuto in avanti il parabrezza, per il trasporto ne potevano essere impilate tre o quattro una sopra l'altra. Eh, sì, cioè la razionalità del progetto si vede anche da queste cose. Cioè mentre tedeschi, e siamo sinceri, anche italiani, perdevano tempo nello studiare, come dire, nello studiare trasmissioni raffinate, sistemi sterzanti su tutte e quattro le ruote, jeep, insomma, veicoli fuoristrada che erano potenti, però anche raffinati e, come dire, potenti, raffinati ma anche di costosa produzione. Cosa facevano gli americani? Questa, questa, cioè il vero segreto della vittoria americana, della vittoria alleata durante la seconda guerra mondiale è questa, nella jeep, la razionalità del progetto, la semplicità costruttiva, l'affidabilità meccanica e soprattutto, e soprattutto, i costi ridottissimi, perché, insomma, dico solo questo, con il costo, cioè vi faccio un esempio, i tedeschi che cosa usavano, se vogliamo, al posto della jeep, usavano le motocarrozzette BMW e Zündapp, le moto cingolate Kettenkrad NSU, oppure le Schwimmwagen e le Kübelwagen, ma io vi dico solo questo, cioè con il costo di una sola moto, BMW con Sidecar, ok? Che era un grande mezzo, potente, affidabile, rustico, ma complicatissimo e non certo facile da portare, ok? col costo di una sola BMW col Sidecar, si ricavavano almeno tre jeep wheelies, sicuramente più versatili, sicuramente più affidabili, sicuramente più semplice per costruzione, uso e manutenzione. Questo era il segreto che consentì agli americani di vincere la guerra, supportando lo sforzo bellico anche inglese e russo, perché, ricordiamoci, gli inglesi, che pure avevano eccellenti mezzi meccanici, non gli faceva certo schifo usare decine di migliaia di jeep. I russi, che nella vastità del loro paese, nella vastità del fronte orientale, avevano un disperato bisogno di mobilità, meglio della jeep, cioè, insomma, decine di migliaia di jeep furono inviate in Russia, che furono utili tanto e quanto, se non di più, gli Sherman e i P-63 King Cobra, che l'America gli inviava. La jeep wheelies è stato il primo vero mezzo militare moderno per la capillare meccanizzazione delle forze armate, che poi, ripeto, i tedeschi, ripeto, proprio la differenza di concezione, e ne parlerò anche, cioè, i tedeschi avevano le loro famose Zündapp e BMW col Sidecar, le moto col Sidecar, con la trazione anche alla ruota del carrozzino, ok? Erano mezzi belli, affascinanti, ma anche costosissimi e di manutenzione non propriamente facile, perché vi ricordatevi solo una cosa, c'è tanto per dirne una, la sospensione anteriore del Sidecar BMW era composta da 35 pezzi, tra boccole, guarnizioni, anelli, viti, giunzioni, molle, mollette e quant'altro, la sospensione anteriore della BMW, del Sidecar BMW, era composta da 35 pezzi. Eh, vi rendete conto che razza di incubo poteva essere il provare a sistemarla in un'officina campale nel fronte russo, quando i russi, grazie allo zio Sam, potevano girare in 4 o 5 su una jeep. È una jeep sulla quale, che poi ripeto, anche i russi usavano i Sidecar, ma, ma, sicuramente dopo un po' preferivano comunque, sempre, comunque, utilizzare questa, utilizzare la jeep, perché rispetto a una motocicleta con Sidecar, era più versatile, era più potente, era più affidabile, era di più facile guidabilità, si portava meglio, funzionava meglio. Eh, e questa è la grande lezione della jeep Willys. Ripeto, la razionalità del processo, non c'è nulla di più del necessario. sedile di un motore leggero, potente e affidabile, ok, una capottina in tela per proteggere, alla meno peggio, il guidatore e i passeggeri dalla pioggia e dalla neve, una forma squadrata che ispira simpatia, ma che in realtà è estremamente razionale, perché, come vi ho già detto, grazie alla forma squadrata, ai parafanghi anteriori e alla struttura semplice e rustica, ne potevano essere impilate tre o quattro, una sopra l'altra, per la facilità di trasporto. Eh, sembrano stupidate, ma in realtà non lo sono. E questo che ha, anche questo, anche e soprattutto la jeep, che ha consentito agli alleati di vincere la guerra, la meccanizzazione, la meccanizzazione, cioè dove i tedeschi dovevano andare a piedi o a cavallo, gli americani usavano le jeep, gli inglesi usavano le jeep, i russi usavano le jeep. È la jeep che ha consentito agli americani e agli alleati di vincere la guerra. Una delle armi fondamentali, uno dei mezzi fondamentali per la vittoria alleata durante la Seconda Guerra Mondiale. Razionalizzazione, economia di produzione, facilità di manutenzione e facilità di guida. Dopo dieci giorni di addestramento, anche il più ignorante, bovaro analfabeta del Texas, era in grado di guidarla. Dopo un breve corso di guida, anche il più ignorante mugico siberiano era in grado di guidarla. Perché? Perché era un mezzo facile da portare. Era un mezzo che perdonava molto al guidatore inesperto. Era un mezzo che era facile da riparare e sistemare. E ripeto, finita la guerra, nelle nostre campagne, anche qua in Italia, ce ne furono tante che furono addirittura adattate per tirare l'aratro al posto dei buoi. Ce ne furono tante che furono utilizzate per mandare le trebbiatrici, per mandare i generatori elettrici, per azionare le pompe di irrigazione. La Jeep Willys, finita la guerra, trovò una spaventosa varietà di usi civili. E questo testimonia veramente la bontà del progetto. Insomma, signori, la vera arma, quasi quanto la bomba atomica, quasi quanto il B-17, quasi quanto lo Sherman, la vera arma della vittoria alleata contro i tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, la Jeep Willys. Poi tenete anche presente una cosa, era lunga 3,30 m, larga 1,60 m, alta 1,77 m col tettuccio, cioè vi rendete conto? Era grossa quanto una panda! Ma il pandino! Avete presente il mitico pandino a scatoletta? Era poco più grossa del pandino! Eh, eh sì, eh sì, pesava 1.377 kg, il motore era un quattro cilindri in linea da 2.199 cm3 da 54 cavalli, una velocità massima di 105 km orari, una apprezzabile autonomia massima su strada di 480 km, una pendenza massima superabile del 60% e mezzo metro circa di guado. Insomma, un mezzo semplice, semplice, rustico, robusto, indistruttibile e che era di facile ed elementare riparazione e soprattutto ancora più facile ed elementare guida per consentire agli eserciti moderni quella cosa che si chiama mobilità! Ed è grazie alla mobilità, ed è grazie, come dico sempre, alla logistica che gli alleati occidentali hanno vinto la guerra. Insomma, cari signori, la Jeep Willys, eccola qua, la Jeep Willys, il simbolo della vittoria alleata nella Seconda Guerra Mondiale. Più ancora dell'atomica di Hiroshima, più ancora dello Sherman, più ancora del Mustang o dei bombardieri, la vera colonna portante della vittoria alleata anglo-americani e sovietici fu questo mezzo qui, la Jeep Willys, indubbiamente. Quindi, cari signori, io aspetto, come sempre, le vostre considerazioni, aspetto i vostri commenti per aumentare le nostre conoscenze a proposito di questo fondamentale mezzo, come sempre, ripeto, aspetto i vostri commenti, come sempre, arrivederci al mio prossimo video e soprattutto, ciao!